Stiamo avvicinando alla fine? Chissà, comunque, capitolo 8, crepaccio del rifugnante, siamo caduti in questa sorta di crepaccio proprio a due passi dalla nostra luce verde di fine livello. Vediamo dove si conduce questo buco. Conoscendo questo gioco sarà pieno di sterco, oppure no, ne stiamo trovando meno. Vediamo... ... ovviamente non... ... pure. ... ok. ... ... ovviamente non, vai. ... molto grosso... ... questo buon canto a rastrelli. Grazie a tutti! C'è un po' di più. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho reso tutto più complicato di quello che è... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Yeah. Grazie a tutti. C'è un po' che mi... Oh, questa è la... Allora, incasinatissimo, ma breve quantomeno il livello. No, peccato, mi vuoi dire di segreti. Va bene ragazzi, a questo punto aspettiamo di arrivare all'esa dei conti finalmente con quel pastaldone col camion. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Slayerics.